E' un video, vi faccio un po' di pubblicità su YouTube Allora fai, vai, vai Allora fai lo video Aspetta, è tiro Ulla, guarda i ragazzi Con la borsa Mettiti così che tanto il culo ti vedo fuori Sì, ma il fatto è che ci sono i culi di mezzo Tu li vanno? Allora, guarda Domani, domani vi metto su YouTube E metto sabato sera a Genova Anzi no, Glamour, Glamour Genova Ok? Sì, sì, guarda Mi faccio locare Alza un po' Guarda com'è impegnato nel copter Fra Sì, guarda Grazie non lo stai facendo Ale non lo stai facendo non lo stai facendo è la conclusione dell'opera nel locale più indice